bene tre spettatori al servizio del pubblico più che mai guardate che ambientazione che abbiamo scelto perché continuiamo con il nostro simone losi abbiamo imparato a conoscerlo questo personal trainer straordinario professionista genovese al quale si affidano poi su internet anche tante tante persone signori e signori che dialogano con lui da fuori genova da 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 oltre i limiti no della nostra città abbiamo imparato a conoscerlo e abbiamo imparato anche che con lui si possono conseguire alcuni traguardi che sono quelli del benessere psicofisico simone intanto buongiorno grazie per essere con noi oggi affrontiamo un argomento si può dire tabù nel senso del dimagramento della dieta ma non intesa per il dimagramento in quanto tale ma per stare meglio con noi stessi con il nostro peso ognuno poi ha la proprio il proprio traguardo di peso quindi come dimagrire non demonizzando naturalmente il cibo ma magari facendolo con un'attività fisica la quale ci fa star bene di per se stessa simone buongiorno allora vediamo un po come inquadriamo questo tema che è quello del raggiungere il nostro peso direi alla luce poi dell'attività fisica e certamente tanto bisogna dire e vorrei sfatare oggi alcuni tabù importanti per tutti i nostri telespettatori riguardo soprattutto la corsa e la camminata perché sono attività che tendenzialmente vengono fatte da tutti chi più chi meno e purtroppo si pensa che la corsa sia un'attività ottimale per dimagrire oggi vi dimostrerò tra l'altro ho portato anche una calcolatrice per fare dei calcoli insieme a voi io non amo molti calcoli infatti ho fatto liceo classico perché odiavo i calcoli siamo in due allora siamo in due ma purtroppo è necessario farli perché il pubblico deve capire esattamente quanto si consuma camminando e quanto si consuma correndo quindi è importante capire la seguente formula quando io vado a correre io consumo una caloria per il mio peso quindi in chilogrammi e per la distanza che utilizzo quindi la prima cosa da capire che è indipendente da quanto veloce corro quindi chi dice vai corri veloce per dimagrire per consumare di più è assolutamente sbagliato quindi facciamo un piccolo calcolo facciamo conto di una persona di 60 kg 60 kg per magari 6 chilometri ok che è già comunque una distanza discreta sono 360 calorie ok 360 calorie sono neanche un piatto di pasta quindi ovviamente se io vado a correre 6 chilometri ok e poi vado a mangiare un piatto di pasta a quel punto lì non ho bruciato nulla secondariamente devo capire quanti grammi di grassi io brucio perché ovviamente queste sono solo calorie a quel punto lì devo calcolare che in 360 calorie ok consideriamo che un grammo un grammo di grasso contiene circa 7000 scusate un grammo di grasso circa 7 calorie perché sarebbero 9 ma poi 2 grammi sono di acqua ok alla fine della fiera senza tediarvi troppo con i calcoli si riesce a consumare veramente pochissimi grassi e pochissimi grammi di grassi considerate che un chilogrammo di grasso contiene 1000 grammi quindi ovviamente se io consumo in un 7000 sì esatto se io consumo circa 7 8 9 10 grammi di grasso in un'attività di corsa di mezz'ora 45 minuti quello che può essere in base ovviamente a quanto vado veloce hai voglia ad arrivare a perdere un chilogrammo di grasso che è 1000 grammi quindi probabilmente l'attività aerobica dovrà essere rivalutata veramente per le sue componenti nobili quindi sicuramente migliora l'apparato cardiovascolare quindi sicuramente va fatto se voglio migliorare cuore e polmoni sicuramente va fatto per abbassare il colesterolo sicuramente va fatta per abbassare la pressione arteriosa ma attenzione a pensare di andare a correre o addirittura a camminare poi eventualmente faremo anche un calcolo sulla camminata perché sicuramente i grammi totali di grasso sono veramente pochi bisognerebbe assolutamente per chi invece ama in maniera sviscerale la corsa impegnarsi veramente tanto quindi andare a correre un'ora e mezza due ore tutti i giorni ma qual è il problema ma chi ha il tempo di andare a correre due ore tutti i giorni quindi questo è un grosso problema che andrebbe sfatato grazie a dio però ci sono altre cose che si possono fare per poter migliorare la propria composizione corporea investendo molto molto meno tempo perché ovviamente nessuno ha un'ora e mezza due ore per andare a correre quindi andare a consumare calorie tra l'altro i pochi grammi di grasso che si consumano attenzione si consumano se ci sono tre aspetti fondamentali una corretta nutrizione una corretta idratazione una corretta respirazione e una massa muscolare metabolicamente attiva quindi se non ci sono questi fattori qua diventa praticamente impossibile consumare grassi in maniera ottimale quindi stiamo perdendo semplicemente tempo e stiamo ovviamente anche utilizzando lo stesso tempo in maniera sbagliata ecco in 21 giorni vediamo questa immagine che ci accompagna quindi un percorso di 21 giorni ci porta ad un traguardo che poi non è solo la pancia ma il funzionamento per esempio del nostro intestino insomma la macchina corporea che va a pieno regime esatto questa è la pagina del mio libro io ho voluto scrivere un libro sull'intestino perché l'intestino reputo che sia l'organo più importante nel nostro corpo ed è quello anche meno conosciuto poverino quello più insomma più maltrattato in realtà tra l'altro so che consuma una grande quantità d'acqua c'è bisogno proprio di idratarlo c'è tanta acqua dobbiamo bere tanta la consuma giustamente l'intestino una sorta di lavatrice insomma assolutamente infatti bisognerebbe per avere una corretta idratazione bere almeno il 3% di acqua relativo al nostro peso corporea quindi facciamo un piccolo calcio il famoso 60 kg che è il mio caso 60 kg perché tutti sanno è il mio peso forno anche in regia anche in regia proprio il peso medio sì 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 il peso forno infatti una persona di 60 kg dovrebbe bere almeno un litro e 8 di acqua al giorno 6 per 3,18 sì se una persona è di 90 kg ovviamente molto di più ma un po' meno io il mio litro l'ho già bevuto oggi ecco la cosa importante ovviamente va bevuta l'acqua poco ma spesso quindi non è importante bere un litro mezzo litro tutto in un sorso solo ma bere l'acqua in maniera scaglionata nelle 20-18 ore della nostra giornata perché ovviamente dovremmo anche dormire perché altrimenti l'acqua non viene immagazzinata a livello cellulare e quindi crea semplicemente ritenzione idrica ma per far sì che l'acqua possa essere utilizzata in maniera ottimale bisogna avere un intestino assolutamente perfetto come ho sempre spiegato sia nel mio libro ma anche ai miei clienti e alle persone che mi seguono quindi l'intestino è un organo fondamentale che va coccolato va amato come amiamo la nostra pelle come amiamo i nostri denti come amiamo il nostro corpo tutti i giorni e quindi va valutato per chi ovviamente vuole fare un lavoro in maniera un pochino più certosina la condizione della flora batterica perché il microbiota che è la comunità batterica del nostro corpo deve essere sempre i neobiosi vuol dire la flora batterica buona deve sempre essere più alta rispetto a quella cattiva purtroppo le disbiosi sono assolutamente l'ordine del giorno infatti i malassorbimenti a livello intestinali il gonfiore della pancia la stitichezza l'alvo alterno la diarrea sono fenomeni assolutamente normali perché ovviamente questa condizione ottimale con questa condizione scolata intestinale non è ottimale ecco c'è anche poi un rapporto psicofisico cioè un rapporto che noi abbiamo con il nostro corpo che ci porta a questo benessere allora le domande sembrano retoriche vedete la corsa fa dimagrire meglio la corsa la camminata per gli spettatori amici amici che lo sapete noi siamo in diretta se avete dei dubbi se avete delle cose da chiedere chi meglio del personal trainer simone losi per rispondere alle vostre domande siamo qui ecco sento già suonare il telefono e quindi spero di avere con voi una bella domanda i pesi sentiamo la telefonata pronto buongiorno 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 sono antonio devolzanetto oh antonio dica vorrei rispondere al trainer sport sì sì personal trainer volevo dire volevo dire che poco non tanto sì anche questo è vero e poi bisogna eliminare i zuccheri e grazie la saluto grazie allora sì insomma un quadro generale mangiare poco di tutto poi questa è insomma è facile dirlo ovviamente cercare di tenere sì gli zuccheri che sono ovunque tra l'altro oggi gli zuccheri li trovate anche dove non ve lo aspettate nelle confezioni surgelate di ortaggi nei passati di verdura trovate gli zuccheri è incomprensibile però ci sono però diceva nella frutta c'è il fruttosio sì sì nella frutta c'è il fruttosio ma il problema non è la frutta di per sé ma sono tutti gli zuccheri nascosti che tutti i giorni mangiamo attraverso i cibi industriali che creano problemi infatti le persone cominciano a soffrire tutti di resistenza all'insulina cosa vuol dire vuol dire che l'insulina che è l'ormone che dovrebbe abbassare i livelli di glicemia dopo averle alzati a caso di un pasto ovviamente ricco di carboidrati non funziona più e quindi tutti i nostri recettori sono alterati e quindi di conseguenza le persone non riescono a dimagrire anche perché c'è un eccesso di carboidrati nella nostra alimentazione ma i carboidrati sono veramente ovunque non è semplicemente il pane la pasta ma sono i cracker i biscotti le fette biscottate tutti i cibi industriali quindi è fondamentale cercare di capire che i carboidrati non vanno demonizzati ovviamente ma vanno centelinati anche in funzione di ciò che uno fa è naturale che se una persona sta otto ore davanti al computer sedentario i carboidrati non devono essere troppo alti perché ovviamente non lo riuscirà a consumare invece magari un muratore una persona che fa un'attività di otto nove ore impegnativa può mangiarli perché ovviamente ha la possibilità di bruciarli durante la giornata li brucia e ci siamo detti tre ore ogni giorno magari potessimo averle per correre o per camminare e allora uno dice beh io ho meno ore però invece di muovermi potrei per esempio affrontare la ginnastica con dei pesi potrei affrontare la palestra quindi ho questo tempo brucio allo stesso modo brucio le stesse calorie come ci si comporta Simone? Allora ci si comporta in questa maniera qua che l'ideale sarebbe riuscire a trovare due ore alla settimana per poter fare attività fisica scandagliati in questa maniera qua due mezz'ora alla settimana dedicata al lavoro con i pesi quindi ovviamente in questo caso il lavoro con i pesi deve essere fatto assieme ad un professionista un personale che possa consigliarvi gli esercizi giusti perché anche lì un esercizo sbagliato diventa ovviamente improduttivo e poi fare altre due mezz'ore magari invece di dedicarlo alla corsa lunga e lenta che poi si è visto da evidenze scientifiche che ha molti meno vantaggi rispetto a quello che si crede a fare per esempio delle attività intervallate quindi magari due minuti di camminata e 30 secondi di allungo o addirittura per chi può uno scatto avere proprio ovviamente una persona anziana non può partire da un lavoro di questo genere qua e quindi partirà magari da una camminata che può essere su un terreno piano e poi consiglio di fare anche una serie di camminate anche magari su terreni disconnessi perché è fondamentale attivare anche i muscoli in maniera diversa quindi mari nei boschi in modo che ci siano anche delle salite, delle discese, delle pietre da poter comunque migliorare la coordinazione questo è fondamentale ma è importante capire anche che i falsi miti vanno eliminati bisogna capire che per esempio molto spesso sentiamo dire alla televisione o nei giornali fate i 10.000 passi al giorno perché sono la pannaccia di tutti i mali, fate i 10.000 passi al giorno e cureremo tutte le malattie e le patologie non è assolutamente vero ossia facciamo un calcolo una persona che fa 10.000 passi ad un passo passatemi il termine normale può andare più o meno a 6 chilometri facciamo un calcolo c'è una formula che si chiama formula di arcelli in cui io faccio 6 chilometri, 6 per il peso della persona, consideriamo i 70 chili normali, sono 420 diviso 35 e sono i grammi di grassi consumati, sono 12 grammi di grassi, cioè voi consumate 12 grammi di grassi facendo al giorno 6 chilometri a piedi, facciamo conto che lo fate per 3 volte a settimana, sono 36 grammi di grassi alla settimana per 4, 144 grammi di grasso alla settimana al mese scusate, per 8 mesi sono 1100, quindi capite che è dura riuscire a migliorare il consumo dei grassi e poi c'è da dire un'altra cosa fondamentale, la forza di gravità tende a spostarci verso il basso, i muscoli sono fondamentali, quindi ritorno alla discussione Enrico perché sviluppare la massa muscolare soprattutto dai 40 anni in poi previene la sarcopenia che è il decadimento della massa muscolare che è fondamentale per mantenere il nostro corpo in assetto, la gravità ci porta verso il basso, infatti gli anziani cosa fanno? Sono tutti rannicchiati verso il basso e noi dobbiamo cercare di avere muscoli efficienti che ci possano permettere di mantenere la postura corretta e bisogna allenarli, ma l'allenamento muscolare non è l'attività aerobica, quindi la camminata e la corsa, che come dico sempre ha una valenza ottimale dal punto di vista cardio, vascolare e polmonare, ma non dal punto di vista della salute in genere perché il sistema immunitario e il cervello hanno bisogno anche di una quantità muscolare importante, quindi allenarsi con i pesi in maniera ottimale, fondamentale per migliorare la longevity, per migliorare la forma fisica e per migliorare il metabolismo, perché il metabolismo aumenta, quindi si consuma di più il riposo, se si ha una massa muscolare più alta. Ecco, in una sua puntata lei ha dato la precedenza alla respirazione, comunque sia con questa attività fisica, la camminata, la corsa in pesi, la palestra, come devo respirare? Chi me lo insegna? Anche in questo caso qua è fondamentale, io vi posso dire quello che faccio con i miei clienti, un cliente che viene da me e vuole comunque cercare di ottimizzare la camminata, la corsa per migliorare la propria efficienza fisica, io faccio dei test, utilizzo in questo caso qua un pletismografo per valutare la variabilità della frequenza cardiaca, ma soprattutto il quotiente respiratorio, perché è così importante? Perché il quotiente respiratorio è semplicemente il rapporto fra l'ossigeno che io inalo e l'anidrocarbonica che io espello durante la giornata, sia a riposo sia durante lo sforzo. Questo mi permette di capire se il soggetto, attenzione, ascoltatemi bene, è un soggetto che ha un metabolismo prettamente, consuma zuccheri o consuma grassi e questo fa la differenza, perché un soggetto che consuma prevalentemente zuccheri a riposo, sarà un soggetto che anche durante la camminata o la corsa, consumerà zuccheri e quindi diventerà un'attività inefficiente sul grasso corporeo. Altresì, se io invece ho un quotiente respiratorio più indirizzato al consumo dei grassi, riuscirò ovviamente a migliorare anche il consumo dei grassi durante l'attività aeronica. Ecco, quali sono i cibi a questo punto che lei consiglia o suggerisce? Perché noi siamo nell'ambito del suggerimento come nutrizionista che si bruciano più facilmente, in effetti comunque si sente quando si fa un po' di attività fisica, l'impressione è quella, magari sono poche, però senti di bruciare qualche cosa. Quali sono quindi quelli più degradabili dal nostro corpo? Diciamo che il corpo consuma sempre una miscela di carboidrati e grassi, quindi ricordo che ho detto all'inizio che per poter consumare qualche grammo di grasso bisogna essere una condizione ottimale, quindi una corretta idratazione che nessuno ha, una corretta nutrizione che pochi hanno e una corretta respirazione di base, quindi viene bene tutto il discorso che ho fatto nella puntata precedente. Senza questi fattori è difficile consumare prevalentemente grassi, quindi consumerò che cosa? Gli zuccheri. Ma qual è il problema? Se consumerò gli zuccheri il mio corpo poi me ne richiederà altri zuccheri e quindi continuerò ad avere fame. Ricordo infatti che l'attività aerobica non è altamente anoresizzante, cosa vuol dire? Non mi dà uno stimolo in cui io sento poca fame, anzi molto spesso ci sono soggetti che dopo la corsa hanno addirittura più fame, quindi rischiano di mangiare molto di più e quindi di andare a inficiare anche le poche calorie che vengono bruciate durante la camminata alla corsa. Quindi bisogna creare questo equilibrio. Simone Losi, ci dia un tema per la prossima settimana oppure un compito da svolgere a casa o dove preferite voi, insomma in palestra, nella nostra stanza, con i pesi, senza pesi, da svolgere per la prossima settimana e sentirci un po' meglio. Ma allora intanto sicuramente è un argomento che poi svilupperemo le prossime puntate è l'allungamento muscolare, quindi lo stretching, perché purtroppo col passare del tempo i muscoli e le articolazioni diventano molto rigide, quindi lo stretching infatti in una certa maniera diventa sicuramente utile per migliorare la nostra efficienza corporea, quindi la cosa che posso dire ai te spettatori è quella magari di provare a fare dei semplici allungamenti, quindi da supino provare a tirare sulla gamba destra e la gamba sinistra e vedere a che livello è riuscita ad arrivare rispetto al vostro corpo. Noterete che la gamba difficilmente riuscirete a portarla in maniera dritta verso l'alto, perché ovviamente i muscoli saranno molto retratti, quindi a quel punto lì si potrà spiegare quali sono gli esercizi utili e quelli inutili per migliorare questa componente. Supino è su, scusate, supino è a pancia su, perché c'è sempre questa cosa, oddio aspetta un attimo con me, supino è su, guardi su, prono, guardi giù, quindi supino, guardi su, tirando a sé le gambe, certo, insomma facile, però ci si può accorgere già da soli, insomma di questo. Un'ultima domanda, è utile il contapassi sul cellulare? Credo che ce l'abbiano tanti, ci raccontano anche, cioè il contapassi fa anche il calcolo delle calorie e alla fine siamo soddisfatti, insomma, di quello, se siamo soddisfatti, se facciamo il record giornaliero, addirittura suona la campana. Diciamo che sicuramente è meglio che non averlo, come ho detto prima ci sono delle formule che possono farci capire un pochino quante calorie possiamo bruciare, il problema qual è? È che per poter dimagrire, la cosa fondamentale da capire è il deficit calorico, quindi è inutile che io vado tramite il contapassi a vedere che ho fatto 6.000 passi, ho bruciato 500 calorie, se poi mi vado a mangiare un piatto di pasta che contiene 600 calorie, quindi la riduzione calorica e soprattutto il lavorare sui mitocontri che sono la centralina energetica del nostro corpo, attraverso un'attività aerobica a intervalli come ho spiegato prima, è efficiente e sicuramente sicura per poter migliorare la condizione fisica. Bene Simone Losi, grazie, ci siamo detti tutto, adesso Simone sta raggiungendo i suoi adepti nella palestra, nel telie, nello studio, nel training in Via 20 Settembre a Genova, noi ci rivediamo e ci risentiamo settimana prossima in questi sessionari, a meno che non ci siano allerte pazzesche, speriamo di notte agli spettatori per stare meglio con il nostro corpo. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale, vi aspettiamo alle 12 con il nuovo Primo Giornale, poi Calcio e Pepe 12 e 15 e poi rientriamo, ci ritroviamo con Viaggio in Liguria a partire dalle 13. Buon proseguimento, a più tardi.